Sapete che è una fase difficile, tutti complettiamo le difficoltà della regione e quando strutture come queste vengono messe a distruzione del territorio, a costo del della regione, credo che si coniga due aspetti. Riesce ad entrare una serie di funzioni verso il territorio e allo stesso tempo non avere pesi come spesso è avvenuto nel passato da conquista economica, quindi di manutenzione, tutti i costi. È un bel gesto che il territorio riesce ad avere una struttura importante, determinante come quella di un'unità territoriale che così come è prevista in tutte le nostre chiarificazioni è un segno di inversione in un dato in un territorio che ha pagato un prezzo enorme e che inizia potete avere anche qualche piccolo beneficio da parte del Palazzo di Santa Lucia che guardo con attenzione all'area nuova.